WE GOT POWER DRAGONBALL Z WAHEI KUJI! Benvenuti in questo nuovo video, sono Andralink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Il suo ultimo episodio è DRAGONBALL. Questo è un sogno di Dragon Ball e il mondo che si tratta di un mondo. Il suo sogno è un sogno di un sogno di un sogno. ma che fissi una bambina C'è un po' di chi è forte? C'è un po' di chi ha conosciuto il nostro figlio. C'è una persona che è venuta a Bruma. Bruma ha fatto andare a Drogon Ball e venire a Bruma. Perciò che si vede a un po' di qui. Perciò che non vedevi a andare a andare a andare a tutti. C'è un po' di chi. Sì, in effetti non lo sapevo. 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 Andiamo avanti con la storia. Provaci quando hai del tempo. Medaglia di... E questa cos'è? Diciamo che è un ricordo del nostro allenamento. Ah, va bene. La cosa migliore dell'allenamento mentale simulato è che puoi farlo ovunque. Persino su questa spiaggia. Va bene, ci proverò. È sbloccato campo di allenamento. Facciamo un po' questo allenamento simulato. Vai. Ma prendiamo raffica energetica, sconfiggendo Krillin. Ehi! Ok, per schivare un attacco premi X subito prima che il colpo vada a segno. Il tuo personaggio sparirà per un breve tempo. Ok, sì, sì. Ehi, calma. Ehi, calma. Perfetto. Ehi, calma. No, mi ha fermato, dai. Ehi, calma. Come, 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 niente, eh. Ma dai, quello era un contrattacco. Perfetto. Graffica energetica, ottimo. Quindi, questa è quella che sarà con X. Per ora basta con l'allenamento. Si, fammi vedere qui che ci abbiamo. Un'altra foto. Goku e Bulma aiutano tartaruga marina, smarrite a tornare verso il mare. In segno di gratitudine, tartaruga presenta ad ora il maestro Muten, il celebre e remita della tartaruga. Il maestro Muten li ricompensa donando a Goku la nuvola d'oro e a Bulma alla spera del drago che porta legata al collo. Dopo che gli ha fatto vedere le mutandine, che però non c'erano perché Goku le aveva levate durante un momento diverso della storia. Ti assomiglia molto, ma è anche forte come te? Credo che abbia una grande forza, ma se parlo di allenamenti, Cici si arrabbia. Perfetto, vediamo con la storia. Oh, papà, c'è quello che c'è? Oh, c'è quello che c'è? Oh, c'è quello che c'è? Oh? Oh, c'è quello che c'è? Oh, c'è quello che c'è? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.